Senatore, nella coalizione di Gianni comincia ad esserci anche qualche segnale di tensione. Ad esempio, ieri è stata presentata la sinistra civica, ecologista, che si è posta a due obiettivi. Prima, insomma, di sconfiggere la destra, il secondo di porre fine al renzismo. Lei cosa si sente di rispondere? Un abbraccio a tutti. Io penso che l'avversario sia Matteo Salvini, però c'è una parte della sinistra che da anni c'è. E' un contente loro, contenti tutti. In questo momento non faccio polemiche nemmeno a richiesta. L'unica cosa è che quando vedo quelle dichiarazioni penso che il caldo non lo faccia male.